Quest'anno torniamo alla settima edizione, da giovedì a domenica a Novilara sarà un grandissimo momento per rimangiare la tradizione ma rivivere anche qualcosa di più contemporaneo, più divertente e fresco per l'estate. Avete messo a punto un programma anche quest'anno interessantissimo, qualche accenno? Sì, ogni anno ci divertiamo a cercare, a stuzzicare anche i fruttori dell'evento e soprattutto noi facciamo un gran lavoro dietro. Quest'anno, il venerdì, ci sarà una cosa fantastica che è un pianoforte di 8 metri per 3, loro si chiamano Il Grande Piano, sono di Cremona e faranno uno spettacolo suonando il pianoforte con i piedi, quindi ballando sui tasti. Poi avremo degli artisti internazionali, ci sarà Hildor che è un artista di circo, di strada e fa degli spettacoli con delle acrobastie sulla bicicletta, quindi c'è tanto di più oltre le tagliatelle. Poi ci sono altri spettacoli, ovviamente musica, concerti e cooking show. Le giornate quindi sono, ripetiamolo, per chi vuole farsi un cerchietto rosso sul calendario. La festa inizia venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 luglio, tutte le sere a partire dalle 19 fino a notte fonde. Il cibo, oltre agli spettacoli, però è una parte trainante di questa manifestazione, quindi il cooking show e anche la buona tavola. Assolutamente sì, infatti io ringrazio Jacopo e tutta l'associazione per avermi coinvolto nell'organizzazione di questa festa. Mi sono occupata della parte di spettacoli inerente appunto alla cucina e abbiamo inserito ogni sera quindi uno spettacolo di cucina. Partiamo il venerdì con un cooking show a quattro mani dedicato a Rossini, ovviamente per il suo 150esimo anno dell'anniversario della morte. Poi si passa al sabato invece con uno spettacolo che riguarda la tradizione, quindi si sfideranno delle ricette tradizionali della nostra provincia con una giuria tecnica e una giuria popolare che poi decreterà un vincitore e poi concluderemo il weekend con un cooking show dedicato alla ciliachia, quindi una tematica molto importante che insomma faremo quindi vedere come si fa la tagliatella senza glutine. Sughi per le tagliatelle, insomma immagino i classici. Ma allora il must have di Nobilara ovviamente la tagliatella con i fagioli e poi ci sarà la tagliatella al ragù ma per i cooking show ci saranno dei sughi particolari quindi non vi svelo niente. A me piace sentire il sabore delle cose.